È stata inaugurata la mostra Duettando, realizzata a quattro mani dalle artiste Luisa Capannolo e Stefania Frella alla Sharky Art Gallery, curata dall'Art Director Sara Cavallo. Stefania e Luisa hanno voluto raccontare le loro opere tridimensionali attraverso materiali come ferro, materiale principale, il legno, il rame e l'ottone. Lavoriamo insieme ma a quattro mani sulla stessa opera, creiamo oggetti di vario tipo e anche dei pannelli, sculture, gioielli. È per noi un gioco. Lavoriamo soprattutto il ferro e abbiniamo metalli, tivottone, rame, texturizziamo dei legni e quindi poi l'assemblaggio di tutto ci danno queste opere così colorate. I profili dei lavori svolti dalle due artiste risultano armoniosi, delicati e morbidi, data la presenza di riccioli e onde che ne fanno un marchio indistinguibile. Revocando donne da altri tempi ed animali appartenenti al mondo fantastico. Le opere giocano infatti sull'ironia dei personaggi e vertono sulla simmetria degli occhi e delineamenti, sulle raffigurazioni grottesche da favola. Due donne che, come in un duetto musicale, creano un'unica opera.